Aprire l'unità scanner. Apri il coperchio anteriore. Prendi la cartuccia toner usata e rimuovila. Disimballa la nuova cartuccia toner. Togli il coperchio protettivo. Non toccare questo rullo verde, il tamburo. Non esporre la cartuccia toner e la luce per troppo tempo. Il tamburo è fotosensibile, potrebbe rovinarsi. Scuoti con delicatezza la cartuccia da lato 5-6 volt per distribuire meglio il toner all'interno della cartuccia. Inserisci la cartuccia nella stampante. Chiudi il coperchio. Chiudi l'unità scanner. Chiudi il coperchio. Chiudi il coperchio. Chiudi il coperchio.